Il portale portoghese Sol pubblica oggi nella sua edizione online una lunga intervista realizzata a maggio scorso con Paolo Sousa. Durante una gita in barca e in costiera, il tecnico portoghese illustrava all'inviato del Sol i suoi progetti per il futuro, affermando di voler restare a Salerno per ora e proseguendo poi con una rivelazione circa la volontà del presidente Revolino di procedere all'acquisto di un terreno nella zona adiacente il Mererosi per costruire il centro sportivo. Le strutture sono uno dei temi su cui si è incentrato il dialogo tra Sousa e la Saronitana nelle scorse settimane. Il trainer di Viseo ha incontrato dell'Aurentus la scorsa settimana sfruttando la clausola presente nel suo contratto che gli consente di riflettere fino al 20 giugno sul proprio futuro. La Saronitana ha esercitato l'opposizione di rinnovo biennale, ma questo non inficia la validità della clausola che forse in tempi non sospetti, con la salvezza ormai in tasca, si sarebbe potuto rimuovere. E magari Sousa avrebbe desiderato che la società gli manifestasse questa volontà come segno di apprezzamento per il lavoro svolto. Un professionista vive anche di queste gratificazioni del resto. La Saronitana al canto suo si sente tradita perché Sousa non avrebbe comunicato preventivamente la circostanza dell'imminente incontro con il Napoli. Il repentino viaggio in aereo per raggiungere De Lorenz non è piaciuto al club Granata. La forma forse è stata sbagliata, ma nella sostanza la clausola offre al tecnico questa possibilità. Nel frattempo però il Napoli ha proseguito la sua esplorazione ad ampio raggio, sondando anche altri allenatori tra cui Galtier, che ha appena ricevuto la liquidazione al PSG, ed è di nuovo libero. Il francese piace molto a De Laurentiis, che vorrebbe puntare su un tecnico proveniente da un campionato diverso da quello italiano. E se la Saronitana rimprovera Sousa una sorta di sgarbo, è chiaro che tale possa essere considerato anche quello di De Laurentiis, che ha sondato il tecnico lusitano considerandolo uno dei tanti possibili candidati a raccogliere i ritari spalletti. Un intrigo in piena regola ne sta scaturendo. Napoli e la Saronitana giocano la loro partita a scacchi, ma su una scacchiera fatta di specchi, tra mosse suggerite da avvocati ed emissari diplomatici. Solo il 20 giugno si potrà sciogliere il primo nodo. Entro quella data Sousa potrà liberarsi dal contratto con la Saronitana, versando la somma prevista dalla penale. Se non dovesse farlo, sarebbe valido a tutti gli effetti il contratto rinnovato dal tempo di granata via PEC fino al 2025. Certo, con un po' più di chiarezza si avrebbe potuto evitare questo pasticcio grosso.